E' lo spirito che rende testimonianza perché è la verità. E' questo il tema della trentatresima convocazione nazionale dei gruppi e delle comunità del rinnovamento nello spirito, che si ritroveranno a Rimini nei giorni 29 aprile 2 maggio prossimi. Una occasione per ribadire l'attualità, la forza, la grandezza della nostra fede in Gesù Cristo, Signore della storia. Questa verità ci riconduce ad una persona, non a ideologie, non a prassi benefiche che riconducono ad un uomo, ad una istituzione, ad una filosofia. Lo spirito è vivo ed è la verità perché Gesù Cristo è vivo ed è la verità. E' in un mondo seminato di menzogne, di odi, di rancori, di violenza. Noi abbiamo bisogno di trovare luoghi di riconciliazione, luoghi di fraternità, luoghi di adorazione, luoghi di ascolto, luoghi nei quali il Vangelo rinasce, rifiorisce in tutta la sua bellezza e la sua originalità. Così è tutte le volte che ci ritroviamo a Rimini, in modo particolare per coloro che per la prima volta vengono accompagnati a questa grande assisi, a questa grande assemblea ecclesiale. Vogliamo che anche voi raccogliate questo invito e vi rendiate partecipi di questo nostro disegno testimoniale. Lo spirito è testimonianza perché ciascuno di noi è chiamato a darne testimonianza, in un modo nuovo, in un modo profetico, in un modo che ha bisogno oggi questo nostro tempo, cioè con la fantasia e la creatività che viene dallo spirito, che viene dall'amore. Sarete allora i benvenuti se vorrete accogliere questo invito insieme ai vostri bambini, insieme ai vostri familiari, perché poi all'interno della convocazione tante sessioni, tanti momenti legati anche al protagonismo dei giovani, dei bambini, quest'anno dei sacerdoti, raccontano della bellezza, della Chiesa e della novità del Vangelo di Gesù Cristo. Lo spirito attende la nostra testimonianza, partecipare, essere presenti, è già un atto di amore e di obbedienza a colui che ci convoca, è lo spirito che ci convoca, e noi speriamo di potervi accogliere.